Le foto che vedete sono state scattate questa mattina da un nostro telespettatore. Siamo a Bassano, più precisamente in strada Rivana, ai piedi della zona collinare che unisce la città del Grappa Amarostica. Qualcuno, approfittando del poco passaggio di auto e pedoni in questi giorni di festa, e magari anche complice la nebbia, ha ben pensato di abbandonare i rifiuti ingombranti all'interno della roggia che costeggia la via. Un vecchio forno a microonde, la batteria di un'auto, un sacco nero ben sigillato e persino un frigorifero. Tutti oggetti che abitualmente vanno conferiti in una qualunque discarica e che invece, ancora una volta, per inciviltà di pochi, finirà per pesare sull'intera collettività. Perché, come evidenzia anche il nostro telespettatore, il costo della raccolta e del trasporto di questi oggetti finirà nella bolletta di tutti i bassanesi. È mai possibile, si chiede, che alla vigilia del 2019 si vedano ancora scene come queste? Ce lo chiediamo anche noi, sperando che il prossimo anno non si debbano più ripetere.